No skyscraper, voto skyscraper ragazzi perché con i full stack è un problema contro Allora vediamo il tracker, siamo Siamo, eh, duo, duo stack con, duo queue Full stack contro Ehm, ok, non so che dirvi ragazzi Eh ragazzi ormai è costantemente contro i full stack, che vi devo dire? Cioè, non so che dirvi, non so che dirvi, però sono tutti ex diamanti quelli contro Platino 1, mi dispiace che voi non lo potete vedere ma R6 tracker non funziona Bandit, Jäger, Valkyrie, Alibi, prendiamo un TB dai Mettiamo un po' di sustain come vita Poi ragazzi vinciamo, e mi perde tutti i punti Con una pronta a curare Con una mappa migliore devo usare Valkyrie No ma sempre puoi usare Valkyrie Ci sono sempre comunque spot boni per Valkyrie Ma, bandit Adesso vai in attico e non fa la bolla a cosa Non metti il bridge Voglio che Piotr mette il bandit Sono curioso Ti sparo in faccia Mamma mia, ti sparo in faccia Ti sparo palesemente in faccia Ci sparo in faccia Ci sparo in faccia Mi sono andata I costi passati Si, a mezza A mezza I amata I amata Andate I amata I amata Stiamo scherzando, vero? Stiamo veramente scherzando, vero? Nice. Ok, premo lesion. Premo lesion, lesion. Ho preso un drone. Eh, Angelo, sarà modifica tasto, cioè. Cos'è il genere? Questo è fantastico. Vedete perché, vedete perché, vedete, 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 ragazzi. Sti bu... Allora, vi spiego. Con calma. Io non dico che quei buchi sono brutti. Ok. Ma, tu per fare quei buchi, tu dove li vedi quei buchi fatti? Su, in partite, dove c'è magari un full stack, un four stack, un trio Q, non lo so. Dove tu fai quei buchi, ma giochi intorno a quei buchi. Quindi, se tu fai quei buchi, devi coprire sia Master, che Attico, che Armory. Se tu fai quei buchi, ma poi te ne vai, e c'è quello Attico che viene sparato da Master, grazie a quei due c***o di buchi che hai fatto, capisci che tu stai aiutando solo il team avversario. Difensori eliminati. Missione fallita. È questo che la gente non capisce. Alcuni buchi, alcune struts, alcune rotation. Voi li vedete nei tornei, li vedete in stream, in live, da persone che sono in cinque. Ma quelli giocano attraverso quei cosi. Non vuol dire che se tu li fai in solo chiuso buoni quei buchi, o quelle rotation, o quei rinforzi. Sogna sempre capirlo, e la gente è questo che non capisce. Gioca a Braindead. Li vede online da uno e li copie. Senza capire che in solo chiuso non li puoi fare quei cosi. È appena smontato il missile di gioco argento in pochi secondi. Eh, ma magari è per quello che sei argento, sì. Capito? Cioè, ragazzi, certe cose, bisogna capire quando farle e perché farle. Cioè, spesso copiare una strat, una strat, non vuol dire che sia la cosa giusta. Ma che vuol dire sta cosa qua, scusami? Ma perché trollano? Oh, mi dirò che questi ci ammazzano. Cioè, ragazzi. No, ragazzi, cioè... Mi secca pure a giocare così, sinceramente. Non ho senso perché non è... Non sono neanche divertente. Guarda, come tro... Ragazzi, questa è persa. No, ragazzi, questa è... Vi fidate, ragazzi, questa è persa. Ciao, Giccio. Cioè, sto vedendo come giocano gli avversari in full stack, come siamo noi. Questa è persa. Già, l'ho capito dal fatto che erano 4v1, 3v1, e non mi hanno pushato neanche con uno, e dronavano. Cioè, questo vuol dire che questi stanno triardando peggio di... di giocare in nazionale, tipo. Quindi, questa è persa. Ma palesamente. Siamo solo Q, non si può giocare contro sto full stack. Another one. Vediamo. Magari il signore ci aiuta e facciamo 3-3. Un pezzo, eh, però... Magari ci assiste. Così. Però non si fanno spottare incazzatissime. Ok. 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 buono dai così prima round vinto buono let's go ma sapete che prendo zofio? siamo in west hirop anziché pingo poco di solito su west hirop poco fa pingavo 70 ma l'hai rotta? stai tronando quello però 1-1 ping Uhuhuhuhu Preso 1-90 Allora 1 l'ho preso Ok No, no, 90 clear Cambio caricatore Posto questo scudo Mandazione sordente Sapete che possiamo fare pure questo? Ma dove stanno loro? Stanno giù, eh? Ok Ma braga che falla Dai, non è morto Jäger Non è morto Jäger Non è morto Jäger Ma come abbiamo perso comunque? Allora, sinceramente ragazzi È la seconda che perdiamo Ma sinceramente contro un full stack Così non mi ritengo Cioè Come posso dire? Non sento che abbiamo perso per me O perché ho giocato male Quindi sti Cioè vi ripeto Finché si gioca contro i full stack Un po' benissimo Ciao amics Presi diamante Sì sì Niente da dire Ciao a tutti